Ammesse tutte le parti civili nel processo per falso e in prospetto sul caso Banca Etruria. La decisione è arrivata nell'udienza del 13 giugno dinanzi al GUP del Tribunale di Arezzo Ilaria Cornetti. Nonostante le eccezioni della difesa, Conf Consumatori è stata riconosciuta e ammessa quale parte civile nel processo che vede indagati i vertici della ex Etruria per il reato di false informazioni ai mercati finanziari nelle missioni e delle obbligazioni subordinate nel 2013. Ammessi anche i 90 risparmiatori associati alla Conf Consumatori che in quell'anno avevano sottoscritto le obbligazioni. Rigettata anche l'eccezione di incompetenza per territorio proposta dagli avvocati David Canesti e Luca Fanfani che avevano sostenuto che il reato si fosse consumato all'atto del deposito del prospetto presso Consob e quindi a Roma e non ad Arezzo. La prossima udienza, sempre preliminare, è prevista per il 21 giugno.